Io li ho disegnati in maniera spiritosa perché il calcite è un argomento un po' triste, ma perlomeno quando uno lo sfoglia sorride vedendo questi gatti e questi cani buffi. E' dedicato ai nostri amici a quattro zampe, il cui valore è stato indubbiamente riscoperto ancora di più durante la pandemia, il calendario Calcite 2023. Questa è la ventesima edizione, sono dunque vent'anni che il calendario del Comitato Aretino lotta contro i tumori e entra nelle case degli Aretini. Il titolo di quest'anno è nati con la coda. Sono vent'anni che il Calcite fa un calendario, io l'ho sempre disegnato fin dal primo e continuo finché il Signore mi darà salute per fare un'opera buona per il Calcite e perché credo fortemente nel Calcite. Come mai quest'anno questi animali? D'altronde se lei ha guardato i calendari precedenti, ogni anno cambio soggetto. Quest'anno mi sono dedicata agli animali di compagnia perché penso che finalmente gli italiani, al contrario degli inglesi che hanno sempre amato gli animali, soprattutto i cani, si sono resi conto che avere un animale di compagnia può essere utile per i grandi, per i piccoli e per gli anziani soprattutto, che li rende più felici, meno depressi e li impegna anche a camminare, a passeggiare, a svolgere diverse attività che quando uno è in solo, quando uno è anziano, ne ha bisogno.